Salve a tutti amici, bentornati su Pausa Caffè. Partiamo subito con la news, ma potrete lasciare un bel like qui sotto per aiutare semplicemente il canale. Potrete commentare tutte le notizie qui sotto, proprio nella sezione commenti. Striscia la notizia, commenta il caso Gian Bruno e i conduttori ci vanno giù pesante con Giorgia Meloni. Ne abbiamo parlato tanto in questi ultimi giorni di quello che è accaduto alla Premier italiana e delle sue implicazioni a livello personale. E far scattare tutto, anche se probabilmente le cose erano già delineate, è stata proprio Striscia la notizia, il programma di Antonio Ricci. Coi fuori onda pubblicati sul Tg satirico infatti, per Andrea Gian Bruno è accaduto di tutto. Prima lasciato pubblicamente dalla sua compagna, e poi, forse, anche licenziato da Mediaset, anche se su questo non ci sono conferme ancora. Ora i conduttori di Striscia si rivolgono direttamente a Giorgia Meloni e lo fanno con ironia. La riposta arriva dopo quel post in cui la Meloni scriveva, Tutti quelli che hanno sperato di indebolirmi colpendomi in casa sappiano che per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane pietra e la goccia è solo acqua. Roberto Lipari allora risponde, A proposito di Gian Bruno, si parla tanto di chi c'è dietro i nostri fuori onda e poco di quello che c'è dentro, questo è un paradosso, ma vogliamo assicurarvi che dietro non c'è niente, al massimo qualcosa davanti, la panza di Friscia, è evidente. Ma c'è una frase, che è diventata la frase del momento, che è, per quanto la goccia possa sperare di scavare la pietra, la pietra rimane la pietra e la goccia resta acqua. Poi dice, e molti hanno detto che questa frase potrebbe essere rivolta a noi. Parte quindi Sergio Friscia che dice ancora, ma non è possibile, se tu la perdita dell'acqua ce l'hai in casa, non è che la puoi pigliare con gli idraulici che ti hanno fatto vedere dove era il guasto. A chiudere il discorso è stato Roberto Lipari, quindi alla fine, qual è la morale di questa storia? E ancora, il lupo lo puoi incontrare quando esci bevi, ma magari lo puoi incontrare anche a casa, in redazione, su chi? E se qualcuno si sta ancora chiedendo se Antonio Ricci sia stato pilotato dai piani alti di Mediaset proprio per recare danno alla premier Giorgia Meloni, le accuse vengono rimandate direttamente al mittente. Il video finisce qui, ma se sei interessato alle news puoi iscriverti al canale e attivare la campanella per non perderti i nuovi video.